Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, qua come sempre Tiz, andiamo avanti con la nostra crea con il Newcastle, apriamo subito questo episodio parlando di mercato, ho guardato il sondaggio che avevo messo due episodi fa e ha vinto Balotelli, vi lascio comunque la foto aggiornata a quando caricherò il video del sondaggio che avevo messo, anche magari anche un po' diciamo il nome che attirava, però devo dire che anche alcuni di voi che normalmente sono controcorrente questa volta mi hanno scritto entusiasti anche sulla scelta possibile di far arrivare Balotelli al Newcastle, siamo allenatori italiani al Newcastle, possiamo portarcelo dietro, sarebbe sostituto di Joel Hinton e non ho intenzione di stravolgere la rosa per lui, però può essere un nome a effetto anche per i giornali, per ridare un po' di entusiasmo a questa squadra, un po' di appeal anche internazionale, un po' di visibilità anche da quel punto di vista. Aspettiamo ancora un paio di giorni, aspettiamo che arrivi il primo di gennaio e che venga ufficializzata la cessione di Gamero, così arriveranno i soldi dalla sua cessione e potremo andare a comprarlo, al momento abbiamo 17 milioni, Balotelli costa attorno ai 20-25, per cui con i soldi di Gamero ci arriveremo tranquilli. Andiamo subito allora a fare questa ultima partita dell'anno, questa ultima partita di Premier League contro il Brentford che dovrebbe essere anche abbastanza accessibile come avversaria. Abbiamo fatto qualche cambio, soprattutto in attacco e sui terzini, sarà l'ultima partita di Gamero nella nostra squadra, per cui andiamo ad onorare questo anno intero passato da noi con delle ottime prestazioni, con un ottimo approccio, spero di riuscire a farlo segnare prima dell'addio ufficiale. Vediamo ai giocatori stringersi le mani, abbiamo McTominay e Hayden davanti alla difesa, per cui un po' più di copertura, e rinunciamo a Shelby Longstaff, ma in cambio diamo modo alle ali, diamo modo agli attaccanti di esprimersi con maggiore libertà lì davanti. Ciucciarito, bene, attenzione, Hayden, pala fuori, non è un cecchino sottoporta, però si era mosso molto bene, mi aspettavo qualcosa di più da lui sottoporta, peccato, ancora 0-0. Gamero, proviamo da lì, e sfiora la rete, ma sull'esterno, la palla è fuori, Almiron, Gamero, vai, supera benissimo l'avversario, arriva la parata, ha fatto un gran movimento Gamero, no, era bella l'idea, è ancora buona, è ancora valida l'idea, Ciucciarito, Ciucciarito dentro e segna il treno, se è Maximan, 1-0, molto bene ragazzi, e si diverte, balla, cosa dobbiamo fare con lui, lo facciamo ballare, se poi segna questi gol lo facciamo ballare volentieri. Arriva al vantaggio, devo dire, dopo una partita non con il dente avvelenato come abbiamo fatto in alcune uscite quest'anno, stiamo giocando abbastanza morbidi, ma con l'avversario che abbiamo davanti adesso si può anche fare. Dentro, il San Maximan, San Maximan, dentro, bello questo gol, bravo San Maximan, e gol del Ciucciarito, il Ciucciarito, 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 un applauso a Gamero, che ho ceduto con una mentalità da società, non da allenatore, perché da suo allenatore l'avrei tenuto tutta la vita, ma come società ho visto il rischio che potesse andare via a zero, rinnovare il contratto avrebbe voluto dire, fargli finire la carriera da noi, e quindi gli ho dato la chance di salutarci, senza svenderlo, e di andare a cercare fortuna alla Lazio. Arriva il fischio finale, 2-0, bene ragazzi. Devo dire che a difficoltà leggenda faccio ancora fatica contro i vari bug del gioco, contro, diciamo, nelle partite cruciali, ma con le avversarie facili è spesso una passeggiata, soprattutto in difesa, dove sono molto più bravo che in attacco. Siamo arrivati ufficialmente all'apertura del mercato. Devo alzare ancora un po', ragazzi, perché ha vinto il sondaggio, non posso liquidarlo così, è che io ovviamente metto il sondaggio, poi mi dimentico che devo avere a che fare con questi porci. Adesso lo scarto, adesso non lo voglio più. 24, accetta, va bene. No, va bene, va bene. Cazzo, han tirato su, eh. Porci, va bene così, va bene 24. Ho capito quando hanno abbassato 24 che se avessi detto 23 mi avrebbero detto no. Ormai questo gioco lo conosco, va bene 24 milioni, tratta. Si è messo elegante, ha capito le leggi qua. 30 va bene, bonus ingaggio lo abbassiamo a 150 e togniamo il bonus goal. Accetta, molto bene. 30.000 euro e 150.000 di bonus. Devo dire che è la sua occasione per tornare ad alti livelli. Queste le prime parole di Balotelli. Darò il massimo per conquistare una maglia titolare e ripagare la fiducia che il mister e il suo staff hanno riposto in me, ha aggiunto. Sempre belle parole, poi mi sputtani tutto lo spogliatoio, eh? Eccoci in campo. St. James Park. Stiamo per iniziare anche il nostro viaggio in FA Cup, sperando che sia la stagione delle coppe. Questa qui. Ovviamente adesso puntiamo alla Carabao. Ho guardato nel palmarès del Newcastle. Newcastle non ha mai vinto la Carabao Cup, quindi sarebbe interessante portargliela. Mentre invece ha vinto già un po' di FA Cup, che è la coppa e non vorrei sbagliarmi, adesso i commenti saranno crudeli. Ma dovrebbe essere la competizione calcistica più storica del mondo, la più vecchia del mondo. Detective Muto è partito. Muto. Muto, palo! Niente, vabbè, sfortunatissimo. Possiamo ripartire col treno. Vai, partito Live Train. Vai, Sam Maximum. Vai, Sam Maximum. Sam Maximum sul primo. Potente, preciso, segna ancora. Sam Maximum. 1-0 per il Newcastle. Bene. Mi noto un po' la nausea, eh. Muoviti di meno. Ok, Holding chiude. Sbaglia poi. No, adesso sto facendo il cretino, arriva il gol. Sto facendo lo scemo. Arriva il gol degli avversari. Devo stare attento perché sono senza portiere in porta, quindi se concedo un tiro, segnano. Qua ho sbagliato con Holding. Un po' in ritardo il nostro compagno in difesa. Arriva il gol degli avversari. Vabbè, arriva Charlie Chaplin che ci serve da lezione. Attenzione! Para Woodman. Prima parata della sua vita. Un applauso a Woodman. Clap, clap. Mi sono dimenticato che essendo FA Cup eliminazione diretta, questa partita è diventata improvvisamente la finale di Champions League. Uff! No, qua segna no. Ok, 1-2. Ok, ok, ok. L'ho accetto. L'ho accetto. Ho capito che partita è. Va bene. Non voglio uscire subito dalla FA Cup. Quindi adesso facciamo sul serio. In attesa di Balotelli nel secondo tempo facciamo sul serio. Frazer. Palla dentro! Madonna ragazzi, Yedlin di testa. Stava per fare il gol più bello della storia di FIFA Heat. Palla fuori. Dentro per sé Maxi Man. Palla dentro! E arriva il miracolo del portiere sul tiro di Balotelli. Questo altro che potenziale dinamico, questo è difficoltà dinamica. Cioè tu scherzi col gioco, il gioco ti fa questo. È finita ragazzi, siamo fuori dalla FA Cup. Ve lo dico già ora. Frazer. Balotelli, miracolo del portiere. Non si può fare niente ragazzi. Devono passare loro. Balotelli. Balotelli traversa. Siamo fuori. Siamo fuori dalla FA Cup. Non si può fare, non si può. Fischio finale. Questa l'avrei persa anche a principiante. Passa il Barnsley. Abbiamo provato nel secondo tempo. Era troppo. Fuori dalla FA Cup. È un grande dispiacere. Speriamo di imparare dall'errore fatto in questa partita. E speriamo di non bruciare mai più occasioni del genere. Pazienza. Sono due coppe grazie al cielo. Stiamo andando bene in Carabao Cup. Proveremo a vincere quella. No, ma anche a principiante l'avrei persa questa qua. Va bene. Per fortuna abbiamo un'altra coppa. Che è la Carabao. Dove abbiamo semifinali di andata e di ritorno con l'Everton. Abbiamo avuto un buon sorteggio. Inizia la Everton Month. La Everton Season. Giocheremo tre partite contro di loro. Incredibile. Prima partita fuori casa. Semifinali di Carabao Cup. Voglio regalare a questa squadra un trofeo quest'anno. E il più accessibile in questo momento è la Carabao Cup. Per cui testa bassa. Facciamo una partita sontuosa. E mettiamo le basi per il ritorno poi al Sam James Park tra due settimane. Andiamo in campo. Entrano in campo le squadre. Chiaramente anche i tifosi dell'Everton sperano di poter vedere la propria squadra vincere quest'oggi. Loro hanno una difesa che è invalicabile. Hanno questo giocatore inquadrato che è uno dei miei incubi notturni. Penso sempre che sia dietro alla mia schiena con un'ascia e che possa uccidermi da un momento all'altro. È un giocatore mostruoso. Lo vedete sotto il nome Undefined. Giojo. Bellissimo. Per Jonathan David ovviamente chiude Mina. Lo ammazza. Te l'ho detto di stare attento alle spalle. Anche io ho paura. Proviamo punizione e traversa di Almiron. Giojo. Supera Mina. E allora meriti il gol. Jolenton para Stekelenburg. Ma esiste ancora? Jonathan David. Jonathan David para ancora Stekelenburg. Dentro. Jonathan David. Jonathan David palo. Giojo. Il sinistro palla alta. Quanti legno ho preso però in questo episodio. Diro para di Nanderson. Cuore. Cuore. Hai ragione a incazzarti. Riusciamo a rubare palla con Sam Maximan. 0-0. Purtroppo la sconfitta di prima temo che abbia complicato adesso un pochino il nostro lavoro. Per cui dovremo arrivare a ritorno con un filotto di vittorie nel nostro curriculum. Per provare a vincere in casa nostra. E' un pareggio che rimanda tutto al ritorno. Facciamo un po' una gara a cuscinetto con la Stonevilla. Poi avremo lo United. Poi avremo l'Everton in campionato e poi l'Everton in semifinali. Però abbiamo una settimana per riposare. Eccoci in campo ragazzi. Non c'è più da scherzare perché purtroppo dopo la sconfitta in FA Cup. Avvenuta un po' per distrazione mia. Un po' per diciamo forza del gioco di saper difendere. Adesso si è messa un po' in salita questo episodio. Abbiamo pareggiato con l'Everton e dobbiamo tornare a segnare e tornare a sbloccarci. Occhio. Miracolo. Miracolo di De Anderson. Dei riflessi spaventosi su questo tiro dell'Eston Villa. Balotelli è lento. Vediamo se almeno è bastardo. Tiro di Balotelli. Para portiere. E' finita. Gol. Gol dell'Eston Villa. Partito, è partito. E' partito il disastro. Tiro. Forse fuori gioco. Forse fuori gioco. No, non è fuori gioco. Balotelli, uno pari. Grandi ragazzi. Bellissimo scambio tra Balotelli e Jonathan David. Arriva il primo gol dell'italiano di Super Mario. Esplode il pubblico. L'avevo appena cambiato. Vabbè, almeno esce felice. Ancora in gioco Balotelli con un tiro debolissimo. Ma quello che bastava per fare gol era toccarla. La toccata non ci arriva al portiere della Stone Villa. Jojo. Jojo. Il tiro di Jojo. Para Eton. Ci abbiamo provato ragazzi. Era troppo. Era troppo anche stavolta. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Dentro. Sam Maximan. Ti prego. Palla fuori. Dio. Siamo riusciti a non perdere. Che era l'importante. Pareggio. Pareggio con la Stone Villa. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Incredibile con una sconfitta cosa può succedere in questo gioco. Ragazzi. Mi raccomando. Non fate mai l'errore che ho fatto io in FA Cup. Perché ne vedete adesso le conseguenze. Sale Voss. Raggiunge Velasco a quota 73. Noi adesso andiamo a vedere l'esagono di Jonathan David. Voi adesso capirete perché state seguendo un folle. No bisogna allenarlo ancora un po' in difesa. Voglio rendere il pentagono equilatero. Ci vuole ancora un po' di lavoro. Va bene. Il peggior momento della stagione. Dopo ovviamente i mesi iniziali. Però diciamo esclusi i mesi iniziali. È il momento peggiore per incontrare il Manchester United. A San James Park. In questa gara di Premier League. Ci proveremo. Con sempre i soliti in campo. Speriamo di vedere la nostra squadra tornare a vincere. Allora. Miglior attacco di tutta la Premier League. Prepariamoci ragazzi. Chi è che c'è in attacco? Ah immobile. Ah ok. Immobile Bruno Fernandes. Ho capito. Ora ho capito. Guarda De Gea. Bambisaka. Maguire. Smalling. Gaia. Fred. Danilo Pereira. Soler. Bruno Fernandes. Daniel James. Ciro Immobile. Porca miseria. Jonathan David. Jonathan David. Stupisce tutti. Brava il tiro. Arriva il miracolo di De Gea. Calce d'angolo. È dura. Pala dentro. Jonathan David. Jonathan David. Jonathan David. Para De Gea. Avevo puntato il primo pallo. Me l'ha comunque incrociata. Non c'è calcio d'angolo. Jonathan David. Questo deve segnare. Miracolo di Dean Anderson. Cuore. Cuore. Cuore ragazzi. Jojo. Il tiro. Para ancora De Gea. Chiaramente. Calcio d'angolo. Dai ragazzi. Proviamo. Deu. Jojo. Rete. Attenzione. Autogol mi pare. Perché esulta dalla bandierina De Olufeu. Sbaglio. Voglio rivedere ragazzi. Perché non ho capito niente. Vediamo. Ok. Autogol. Autogol di tra l'altro Ciro Immobile. Ed esultanza di De Olufeu dalla bandierina. Incredibile ragazzi. Pur di non farmi segnare di testa da calcio d'angolo. Ha fatto segnare i loro. Va bene. Va bene. Gol. Continuata. Non c'è neanche fallo. Il tiro. Rete. Gol di Immobile. Che pareggia i conti. Stiamo con questo modulo. Va bene. Hashtag cambio modulo. Occhio. Potrebbe arrivare addirittura il 2-1. E arriva. Il gol di Fred. 1-2. Micidiale del Manchester United. Siamo sotto. E' ragazziata durissima. Già andare in vantaggio per un po' è stato bello ma non si poteva fare altro. Kunde. Il tiro. Miracolo di De Gea. Cade di Joelinton che poteva fare il tap-in tranquillamente. Fischio finale. 1-2. Ok. Ci abbiamo provato. Niente. Doveva vincere lo United. Peccato brutta sconfitta perché probabilmente ci fa tornare all'ottavo posto in Premier League dove stavamo risalendo. Siamo ottavi. Ci ha scavalcato il Chelsea. Sta andando peggio di noi il Wolverhampton. Possiamo... Lester e Arsenal sono un po' scappati. Possiamo però provare ad arrivare settimi. E comunque possiamo provare a vincere la Carabao che è sempre importante. Andiamo contro l'Everton in campionato per prendere un po' le misure in vista del prossimo episodio dove avremo invece il ritorno in Carabao. Perché se salta anche la Carabao salta la stagione. Cioè ci rimane l'Europa League che però arrivare in fondo è bella lunga. È arrivato il freddo inverno e non solo come temperature ma anche nei nostri cuori. Abbiamo fatto un gravissimo errore. Abbiamo preso una leggerezza che non c'era stata concessa. E ora la situazione è devastante. Un episodio che si sta tramutando in un'impresa. Dobbiamo adesso affrontare l'Everton in campionato e provare a batterli per poterli poi più facilmente battere anche in Coppa. Fabian Char con il suo viso calmo, angelico, elvetico. E invece Mina con le cicatrici sul cranio per gli omicidi commessi nella sua vita precedente. Ti prego David segnami tu, segnami tu David, segnami tu. Daniel Rose. Jonathan David. 0-1. Jonathan David. Jonathan David. Il David Michelangelo. 0-1. Fermi. Attenzione. Paradine Anderson a due mani. Schema therapy. Jonathan David. Jonathan David. Jonathan David. Attenzione. Mina. Jonathan David ancora. Mina. 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 Deulofeu. E allora. Jojo. Arriva il miracolo di Pickford. Calcio d'angolo. Provano a salire. Vai Lasi. Bravissimo. Almiron. Dentro. Jonathan David. Stop il tiro. Deviazione. Calcio d'angolo. No. Attenzione. Fermo. Fermo. Chi è che è caduto. Stai bene? Stai bene? Non è possibile. Si è fatto male Carer. No. No. Fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Finisce la partita. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Ragazzi. Ne manca una. Manca il ritorno della coppa. Come faccio a non giocarla adesso? Offerta per Fabian Schar. Non l'apro neanche. Va bene? Come sta Tilo? Bene. Bene. Sta bene. Sta bene. Sta bene. Sta bene. Adesso c'è il ritorno delle semifinali di Carabao Cup. Vogliamo arrivare in finale? Vogliamo comunque provare ad alzare questa coppa visto che in FA Cup siamo usciti subito e da lì sono nati i problemi. Ma arriviamo da 1-1-0 ottenuto proprio contro l'Everton in Premier League e quindi abbiamo il dovere di crederci, il dovere di provarci. Vogliamo vincere questa partita davanti ai nostri tifosi e accedere alla finale. Siamo in campo. San James Park. Punteggio andato a 0-0. Questo è il ritorno davanti ai nostri tifosi. Mi sembra di aver visto il due d'attacco a Lario Moisekin che per noi è un problema. Un gran bel attacco che userei io in una mia carriera. Buona parte della stagione dipende da questa partita. Cos'è? Cos'è? Jojo para Pickford. Cos'era quel fallo? Deu. McTominay di testa para Pickford che è uno dei portieri più forti al mondo in questo gioco. Dentro. Jojo para Pickford. Provato anche a tirare potente sul primo palo che mi dite sempre che si segna. Non ho segnato neanche così. Non c'è mina quindi un po' di spazio per Jojo. Jonathan David. Prova da lì! Miracolo di Pickford. Prova, prova che sei forte. Dai! C'è un po' di spazio. Jonathan David. Jonathan David. Jonathan David. Jonathan David. Miracolo di Pickford ancora. Calcio d'angolo. Jonathan David. Atterrato! Fallo. Punizione. Punizione! Rete! Mario! 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 A cosa hai combinato? Ha fatto la scursata? Eh lo so. Eh lo so. È fatto così Mario. Lo so. Hai ragione. Grande. Questa non l'avrebbe fatto Gamero. Ci siamo. Ci siamo. Vai! Vai! Fischia! Fischia! È finita! 1-0! Ripetiamo il risultato che abbiamo ottenuto in campionato. Andiamo in finale di Carabao Cup. Grazie Carletto Ancelotti. Scusami. Dovevo passare io. Passiamo con una magia di Super Mario Balotelli da calcio di punizione. La roba più impressionante di tutte. Mario! 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 Ma te abbiamo preso per questo. Grande! Che punella che hai tirato. Eh lo so. Eh lo so. Non me l'aspettavo neanch'io. Ho avuto la scursata. Quella così. Finale con il Manchester United. Dopo aver giocato i sedicesimi di Europa League. Si farà penso tutto nel prossimo episodio. Possiamo iniziare forte con Crystal Palace. Poi fare le quattro partite che dobbiamo fare. E poi arrivare alla finale. Ok. È una finale tra l'altro di Carabao Cup molto realistica. Perché succede spesso in Carabao questa cosa qua. Ma per il momento è tutto ragazzi. Non so come monterò questo video perché ci sono tantissime partite. Al massimo durerà un po' di più. Però ci sono davvero tante emozioni da vendere in questo video. Per cui lasciate un bel mi piace. E ci vediamo presto con il prossimo episodio. Dove ci sarà probabilmente la finale di Carabao Cup. E soprattutto la partita con il Marsiglia. Andate e ritorno di Europa League. Quindi ci stiamo avvicinando alla fase cruciale di questa seconda stagione. Per il momento è tutto. Un bel mi piace, un commento, tutti i link in descrizione. FIFA Hit Official su Instagram, FIFA Hit su Twitch. E ci vediamo presto con un prossimo video.